Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo il pizzo di pizzo antico romano con salsa bianca, dal viaggio del viaggio del Reco Quinaria. Iniziamo con gli ingredienti. Necessitiamo un pizzo, le mani, le spezie, il pepe, i scello di cagliari, il viaggio del caglio e il camion. Poi il vinagre, il garum, l'olio di olio e la donna. Arracciamo il pizzo su una strada di levi di bianca con olio di olio e lo cuociamo sotto il testum per circa un'ora. Il testum è un ovio portabile antico, preparato con clave, perfetto per baccare il pane o carne di rosa, ma potete usare il vostro ovio regolare con il papà di bianca o altre levi, invece di levi di bianca. In Reco Quinaria, il pizzo è usato per preparare le piante e è esattato nel indice del VI libro, Ma nessuna ricetta si è arrivata in questa parte del libro. Il romanzo antico ha amato e cazzo i pizzeri, e questo tipo di carne era costoso e prezziato. Marshall descrive i pizzeri cazzo con altre paltri in una villa. Ma nei Deipnosofisti è menzionato un pizzerio di pizzeri che vivono nel V secolo, prima della era comunale. Nell'edicto di prezzi maximi, usato dall'empero Dioclesiano, un pizzerio male costa più di 8 ucci e un pizzerio di pizzeri più di 4 ucci. La ragazza è esplendita nel Petronium satiricum. Il pizzerio è difficile da trovare, quindi è piacente alla paletta. Oggi i duczeri e i pizzeri hanno un sapore di plebe. Nell'edicto di prezzi maximi, i pizzeri costano lo stesso che i pizzeri femmini. Non conosciamo il尺e dei pizzeri prezzi da Roma antichi. Inoltre, un pizzerio europeo è molto più grande da un pizzerio. Inoltre prepariamo la salsa. Inoltre prepariamo nel mortaio il pizzerio bianco, sceglia, sceglia e ciumino, con le mani tostate. Poi dilutiamo con l'olio, il garum, il vinagre e l'olio di oliva. Questa ricetta è per qualsiasi tipo di pizzeri. L'autore raccomanda la salsa bianca per i pizzeri sembrati, ma noi preferiamo rossare il nostro pizzerio per un miglior rispetto. Se vuoi, usate diversi tipi di carne. Nella ricetta ci sono ricette per l'ostra, guinni faule, dac, gus, cibo, partridge, dove, pizzerio e anche crano e flamingo. Come un'alternativa per le mani, l'autore suggerisce le mani o le mani, puliti per fare una salsa bianca. Inoltre, neanche queste, né altre sceglia bianca in questo cucchiaino sono davvero bianca. Questo non è possibile perché gli altri ingredienti aggiunti alla sceglia sono colorati, come le spezie, il garum, l'olio di oliva e l'olio. Questa è una differenza substanciale tra la cucina antica e medievale, in cui, invece, ci sono piatti perfettamente bianca. Per ottenere una salsa abbastanza, usate un picco di quale spiace, 10 o 15 grammi di mani, un tablespoon di garum, due tablespoon di oliva e oliva di 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 oliva. In ogni caso, provate la salsa e aggiustatela al tuo gusto. Il garum potrebbe essere sostituito con una salsa di pezzi sudestasi, colatura di alici, antica muria o anche salto. Potete trovare i link alle ricette per la garum e la muria nella descrizione sotto. Per sapere più sull'antica antica, leggete il nostro libro, La cucina antica romana, e guardate la nostra pagina Patreon, in cui trovate articoli e tradizioni di storie storiche, tra i quali i primi neve libri del Re Cucunaria. Se siete interessati nel passaggio tra l'antica antica e la cucina medievale, leggete l'Observazione Ciborum, le ricette medievale, alla corte dei Francchi. Se volete sapere più sull'antica medievale, guardate il libro della cucina medievale, e registrate una cucina medievale. Se siete interessati in vegetabili, nella cucina storica, ricetta medievale, ricette medievale italiane, vegetabili, frutta, erbe e flore. Per supportare il nostro lavoro, potete anche comprare una birra e comprare il nostro mercantino. Trovate tutti i link nella descrizione sotto. questo pizzo di pizzo era delizioso, con il sapore delicato del carne, aggiornato da una salsa intensa. potrebbe essere interessante provare questa salsa con diversi tipi di carne, per esempio, dacca o guinni fowl. Abbiamo accompagnato la carne con il pane di pizzo di pizzo, e una salada con pezzi di pizzo e pezzi di verde. Trovate i link alle ricette nella descrizione qui sotto. se siete interessati in alimenti antichi e i suoi sapori, abbiate il nostro canale e considerate di supportare il nostro Patreon. www.mesmerism.info